Ancora questo vuoto. Devo attendere un attimo. Ancora questo vuoto. Non per molto. Troviamo un'altra strada. Troviamo un'altra strada. Troviamo un attimo. 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 Grazie a tutti. 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 Lorath, stai... Sto solo riprendendo fiato. Vedo l'aguglia più avanti. Andiamo. Grazie a tutti. Lilith è stata qui. Vedo i petali di sangue. Tin onun exsuscia. Ancora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel suo sacro nome, noi combatteremo. Sia benedetta la luce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I sussurri dei dannati. Le parole non ti salveranno. fatti vedere. E così... E così... ritorna... E con quanto... Ardore... non è più... e... E in paradiso... E in paradiso... che abbiamo... è il nostro figlio... per soddisfare... per soddisfare il paradiso... dimmi... questo... questo... no... 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 nella sua gloria... nella sua gloria. no... contemplate... l'opera della vostra fede! è... è fatta... finisce tutto... finisce tutto... con te... no... abbiamo fatto una scelta... e questo... non ce lo perdoneranno mai... a prescindere da... quello che ti racconti... o... da chi sacrifichi... il silenzio... il silenzio... è il loro giudizio... Ma... ma io... ho sistemato tutto... cos'altro volete che faccia? ditemelo... vi prego... ditemelo... il paradiso... non ti parla più... ormai... no... no... paradiso... protettimi... no... il tuo posto... è negli imperi! no... 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 abbiate fede... abbiate fede... combatese! combatese! Che è successo? Lilith... ha strappato le ali di Inarius... è stato come se giocasse con lui... voleva che l'angelo soffrisse prima di dargli il colpo di grazia... allora... la profezia si sbagliava... una lancia di luce che penetra il cuore dell'odio... forse no... anche Lilith è ferita... sarà più facile intrappolarla nella pietra... se n'è già andata... e adesso? ho un'idea... preparerò l'occhio invisibile... l'occhio? che intendi? dobbiamo trovare Lilith... l'unico modo per farlo è usare l'occhio... dici sul serio? so che l'ultima volta che è stato usato... non è finita bene... hai un'idea migliore? qualcuno di voi ce l'ha? come pensavo? dai! 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 dai Donnan, stai sanguinando. Sto... Sto bene. L'occhio... Ehm, ah... Ehm... Così... Eccoti qui alla fine, a rivendicare il tuo passaggio sicuro per la Cattedrale dell'Odio. E sembri anche messa peggio dell'ultima volta. Io non sarei così sicuro della vittoria. Mantieni la promessa che mi hai fatto. Certamente, figlia dell'Odio, con il mio dono potrai affrontare tuo padre. Alla fine torneremo tutti a casa. Sciocco da parte tua a usare di nuovo l'occhio. Cos'è questo posto? Dove mi trovo? Sei prigioniero nella tua stessa mente. Potrei tenerti qui per sempre. Ma... Ti proporrò un destino diverso. Potresti essere il più grande protettore di Sankto. Ma solo se è una tua scelta. Ti mostrerò perché il mondo ha bisogno di te. Sin da quando hai bevuto il mio sangue, sono diventata parte di te. Lo so sempre. Porto nel mio cuore le tue speranze. Ho donato agli umani il libero arbitrio. Ma si sentono persi, senza un pastore a condurli. Che vergogno. Nostro padre gli ha indicato una via per una salvezza. Eppure, deviate da essa a un mio casore. E la gente si lascia incantare dallo spettacolo. Desiderosa di credere che la vita sia da te. E a me visto dagli occhi di un bambino. ma tu sai che è tutta un'illusione. Gioradrim conoscono la verità. Sì. Ma sono solo custodi del sapere. Non possono fare ciò che fai tu. che fai tu Oh, no. Ah, no. Oh, no. Oh, no. Mio figlio era più saggio perfino degli Oradrim, ma non era neanche nella sua natura essere un pastore. La sua profezia era un avvertimento, ma invece di usarla per unire Sanctuari, ha lasciato proliferare il caos. Inarius, Elias, Lolath, ciascuno desiderava vedere la propria interpretazione della profezia, ma erano ciechi di fronte alla sua semplice verità. Noi siamo prigionieri. Farà sempre parte di lui. Dobbiamo combattere per sopravvivere. Molto umano da parte di Inarius. Pensare che la profezia riguardasse solo lui. O forse è stata la tua razza a ereditare da lui quella vanità. Beata madre, salvaci. Elias pensava che sarebbe stato lui per salvare Sanctuario, ma si sbagliava. Dove essere umano a guidare il grece degli umani. L'odio, la distruzione e il terrore sono eterni. Dovremo sempre combatterli. Ma possiamo porgere le sorti dell'eterno conflitto a nostro favore. Inizia tutto qui, con l'anniettamento di Mephisto. E tu guiderai le battaglie a finire. Prendi soltanto la mia mano. Combatti per Sanctuario. Io resterò in disparte. Non ti prenderò mai la mano. Allora questo è il futuro che vi è a te. Ti terrò incatenato qui. Per sempre. Non posso ancora farlo. Salve Amcun. Salve aiuto. Prendi il portale. La caverna nella montagna. È qui che Mephisto mi ha trovato. Non temeri. Sono qui per liberarti da questa trappola. Per quale motivo continui ad aiutarmi? Guarda dove siamo. Ti ho salvato in questa triste caverna. Perché sentivo che eri in grado Di eliminare Lilith. E io non desiderò altro. Non mentirò. Verrà un momento In cui saremo nemici. Ma... Che ti piaccia o no... Ora dobbiamo collaborare per sconfiggerla. Guardami negli occhi. La strada è per via. La mia benedizione ti guiderà. Procedi senza paura. Non... Prendi... Ma... Sembrava di aver sentito quel vecchio gruppo che si girava da queste parti Seguiresti mi ha visto, ma non mi Sei davvero così sciocco? Non servo né te né lui Che cosa ti ha offerto, mio padre? Quale torre si darebbe il don della poteca? Il suo sangue è nelle tue linee, la varia Devo attendere un attimo Oh! 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 Attendere un attimo. Devo attendere un attimo. Non sei forte come pensavo. Hai gettato la tua vita per nulla. Nel fatto non hai visto hai già segnato. Nulla hai deciso ed è per questo che parli ancora. Fermi in grado di seppegnerò in quest'incubo finché non implorerai di morire. Non posso ancora farlo. Devo attendere un attimo. La fonte di quest'incubo è l'occhio invisibile. Prendilo e diventa libero. Sì. Ah, 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 ah Non pensarci nemmeno a seppellirmi qui, bastardo Sono troppo vecchio per trascinarti via di qui Sposta la mano, fammi vedere Sono anni che non prendo ordini da te, Lorath Non vedo perché iniziare ora Dovevi rivolgerti a me, non alla cattedrale Ci sarei stato per sostenerti Lo so E magari tutto sarebbe andato diversamente con Skosglen E con Ioren Sarà abbastato Peserà Che sia stato abbastanza Sì Più che abbastanza Mi dispiace, perdonan Chi hai visto nell'occhio? Ilith mi ha teso una trappola Ma l'ho vista attraversare un oceano di fuoco Per... È troppo tardi Non possiamo arrenderci Cosa dovremmo fare? Non... Non lo so Gli uova Hanno sempre pensato che se fossi morto Sei sempre stato tu Confidati del tuo istinto Cosa dovremmo fare?